E' partiti, sono partiti! Aliti! Riamminando, poi Cataluco Corfe 5, in avanti Mark Emilio Gari Per l'altra settimana l'uomo è un po' veloce questa gara Aliti, 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 Gari Un paio di squadra 22.58 al passaggio 2 Unite, Gai, in Cataluco Ultimi 100 metri, forza! Forza, 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 andiamo, andiamo Signore del pubblico, sosteniamo questa gara, forza! Aliti, Gari Un'ottima premio E' la mia prestazione E' la mia prestazione Per l'altro E' la mia prestazione Della mia prestazione E' un'ottima felicità